Proseguono le opere di messa in sicurezza e ripristino del teatro della società. Il progettista e direttore dei lavori, ingegnere Nicola Berlucchi, ha illustrato in commissione gli interventi finora effettuati. Due le varianti di progetto approvate dall'amministrazione, finalizzate sia alla riapertura in sicurezza della struttura, sia alla sua fruibilità 12 mesi l'anno, con interventi che, a partire dalla bonifica dell'amianto, con il contestuale recupero del dipinto di Orlando Sora, prevedono l'implementazione dell'impianto di raffrescamento e la realizzazione di un'apertura sul retro dell'edificio, atta a facilitare il carico e scarico dei materiali di scena, laddove nel progetto originario del Bovara era prevista l'abside. La bonifica dell'amianto da soffitto a volta della platea, con il contestuale obiettivo di recuperare l'acrilico di Orlando Sora, è stata sì coraggiosa ma necessaria, spiega l'assessore ai lavori pubblici del comune di Lecco, Maria Sacchi, e si è rivelata inoltre una scelta lungimirante, visto che proprio durante i lavori è emersa la presenza di altro amianto nell'arco di Boccascena, oltre alla zona retro orologio, ora bonificata e per le quali ATS ha rilasciato la certificazione post-bonifica. Tuttavia recente è la scoperta di ulteriori materiali contenenti amianto nelle murature dei palchetti, per la cui rimozione attendiamo che la ditta specializzata presenti ad ATS il piano di lavoro per il confinamento e la successiva bonifica. Prossimamente si proseguirà con la posa di nuovo in tonaco sull'intradossore del soffitto della platea e con il riposizionamento in opera delle figure dell'affresco del Sora. A 178 anni dalla sua realizzazione, prosegue l'assessore, il nostro teatro cittadino svela il suo essere e la nostra volontà e anche quella di scoprire per riscoprire, togliendolo in tonaco dagli interventi di restauro compiuti nello scorso secolo. Da una prima campagna di indagini esplorative sono infatti emersi affreschi e cromie che rendono necessari approfondimenti per i quali è già stata avanzata richiesta la soprintendenza. Lavoriamo con convinzione, spiega Maria Sacchi, nella direzione di una riapertura della struttura in sicurezza e con nuovi impianti, così da rendere questo teatro di metà ottocento, la nostra piccola scala, moderno in termini di fruibilità, conservandone al contempo il suo patrimonio artistico, identità culturale per noi cittadini lecchesi.